Beni per 75.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria ad Adriana Musella, Presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia Riferimenti, indagata per i reati di malversazione ai danni di enti pubblici e di approvazione in debita ai danni della stessa associazione. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, secondo quanto emerso dalle indagini nel corso degli anni a partire dal 2002, in qualità di Presidente di Riferimenti Musella, avrebbe ricevuto e gestito diversi finanziamenti anche pubblici per un importo complessivo di circa 450.000 euro, il cui impiego sarebbe dovuto essere vincolato alla divulgazione della cultura antimafia. Gli accertamenti condotti dai finanzieri hanno invece evidenziato che parte di quei fondi, ottenuti nel corso del quinquennio 2010-2015, quantificabili in circa 55.000 euro, sono stati utilizzati per finalità ritenute estranei a quelle associative. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Presidente dell'Associazione Antimafia, dicendosi profondamente scossa dall'inchiesta della Procura Regina. Non merito questo trattamento, ha commentato, aggiungendo, posso aver commesso qualche errore, presidevo un'associazione e non una banca, dovrò riguardare tutte le fatture, portare le carte al processo per difendermi, sono tranquilla e in buona fede, tutti mi conoscono, ha poi concluso e sanno come ho lavorato. Grazie a tutti.